Quando arrivano, tante alla felicità che mi sono mischiavati nel prima rispondo, tutti lo guardano le compagnie, quindi voi, dato un'occhiata al gruppo, soprattutto al colore del braccialetto. Una serie di staffette lungo il percorso che fa tutto il giro esterno, che è di circa due chilometri, quindi non è tantissimo, 1500-1800 metri, quindi si può fare. Naturalmente, come tradizione, al vostro fianco ci saranno tante atlete che gareggiano nell'attività di corsa su strada e che oggi saranno con voi a farvi compagnia nella vostra fatica. Si vanno componendo le varie squadre, si fanno già le strade. Questa corda ci possa essere qua, dalle tutte Berliamme. Tre, due, uno, partito! Il colore verde, il verde, rosa franciana. E' stata Rosa Francesca e Johanna, Johanna che cambia e non ce la fa più.